Coccaine e forchette, benvenuti in questo nuovo episodio Allora, questo dovrebbe essere, se riesco eh, poi se l'ho caricato il giorno dopo è una grande gaffo Dovrebbe essere un video sorpresa caricato di sera, nel giorno stesso dell'episodio precedente Quindi è un regalo, un omaggio che io vi faccio E voglio almeno, 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 tanti like così Immaginate quanti voi Quindi tutti quanti a mettere like Vi ricordo come sempre che lunedì, domenica, che lunedì? Domenica c'è la gara di pesca ragazzi, vi voglio il tutti lì E mi raccomando, tutte le informazioni in descrizione, c'è il numero di telefono Chiamate e contattate Detto questo, giochiamo Ah, mi sono portato avanti eh Mi sono portato avanti, almeno possiamo fare le cose che vogliamo Allora, abbiamo detto, due di ferro Oh, guarda che figata, facciamo l'invar Ora l'invar è da cuocere Logicamente è da cuocere l'invar Porca paletta, non ce l'avevo pensato L'invar è da cuocere Mentre cuociamo l'invar Voglio farvi vedere, a parte quanti mob E non è che mi interessi più di tanto i mob in questo momento Allora, qui abbiamo questa roba qua Ok Andiamo a fare un'altra cosa ragazzi Un'altra cosa Oggi andiamo ad upgradeare un pochino la corrente Ok Quindi ho già il ferro Ho già il tutto Ci serve una quest Una quest Vabbè, ciao Una cestica Una cestica Andiamo a fare i machine block Mi serve la redstone Andiamo a prendere la redstone E facciamo i machine block Ragazzi, sì Oggi upgradeiamo qualcosina Facciamo qualcosina di carino Vediamo un po' Ehm Pampete Zacchete Tatanchete fatto Poi facciamo una fornacchia Una fornacchia Tatanchete Una fornacchia Dovremmo avere tutto Dovremmo avere tutto Sbambete Oltre che fare la questica Eccola qua Che bellezza Che bellezza Potremmo fare anche la culinary generator No, questa qua la culinary se non erro è quella col cibo Poi se le facciamo tutte Facciamo la bung bang bang La rainbow generator Mamma mia Chissà che cosa sarà Non sono mai riuscito a farla Mai, da quando gioco a minecraft Pensate un po' Allora Ora con l'invar possiamo fare la girella Pampete E andiamo ad upgradeare La 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 Andiamo a prendere il copper Dovremmo avere tutto Dovremmo avere tutto Mi serve il copper E' semplice come upgrade Poche parole Quest'upgrade Non è male Perché Mi servono tre copper Mi servono tre copper Allora Guardate cosa ho scoperto Cosa ho scoperto Ah Se noi questi Prima di cuocerli Li andiamo a triturare Das 3 Diventano 6 Iniziamo ad addoppiare I materiali Ad addoppiare I materiali Eh Amici Amici pescatori Oh E ora possiamo metterli nella fornacchia Voilà Abbiamo la copperica La copperica La copperica Facciamo così La rondella La patarucchia La paturchia E poi che mi manca Ah Basta 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 Easy 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 peasy Lemon squeezy Dov'è qua Dai dai Vai a cuocere Eh vabbè però Devi stare molto calmo Quando parte con me Stai zitto eh Dai Pam Ragappi Ragappi A parte c'ho uno zaino Ad aprire qua Una valigetta C'è il cane che miagola E ancora Sti fioli neri Ma che pasqua Ragappi Ora voi sembrerà il martello Identico a prima No Se prima lo avvi Abbiamo single block Uno per due E tre per tre Ma il prossimo upgrade Az Cacacaz Qual è l'elettro Con l'elettro cardiogramma No niente Il prossimo upgrade Niente Ragazzi Ora possiamo scavare Ma io non so se mi sono stato spiegato chiaro Cioè io non so Se capite quello che ho detto poc'anzi Cioè Cioè raga Guarda qua Allora Se noi lasciassimo Almeno un due di margine No Guardate Ah è scarico Che figuraccia Che figuraccia signori Che figuraccia Che figuraccia Ora dovete caricare abbastanza velocemente E infatti E infatti E infatti Abbastanza velocemente Perché abbiamo tutto carico Qui è Cento Ah no Cinquantamila RF Quindi Dovele rimanere con diecimila Perché quarantamila Me le infilza Me le inficca Me le infalcia Me le imbutta qua dentro Giusto Facciamolo caricare Facciamolo caricare Dai ben venga Allora Andiamo a vedere un po' Che questica possiamo fare Ancora Indietro No invece no Più che questica voglio creare Allora 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 Bor Non è qua Mi servono Delle cosette Che ora cercherò Aspettate Mob C'è una quest Che si chiama mob E' questa qua E' questa qua E' questa qua E' questa qua La questica La quest Che suonate la mod La mob Grinding Utilis Che sta roba Mob fan Mob Masher Advanced modular Mob grinder Can 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 No ma Questo qua Uccide i mob Quello lì che ho visto Uccide i mob Questo Yep No ma questo lo facciamo No ma questo No ma questo lo facciamo Ma questo lo facciamo Ma questo lo facciamo Ma questo lo facciamo Certo lo facciamo Volendo abbiamo L'entity Conveyor 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 belt Posso essere quelli Conve Conve Mi è arrivato un messaggio Su telegram Mi sa Conveyor belt Eccoli qua Ma non sono quelli Che cerco io Trovati Sono questi qua I vector plate Ci sono verdi Così E cos'ha Ah sono gridati Allora Una slime ball Eh ma io la slime ball Non ce l'ho Come faccio a fare la slime ball La slime ball No vabbè Non la pink magari La slime ball Non me faccio Nome faccio la slime ball Porca paletta Ah è questa Ah la slime ball Eccola qua Come faccio la slime ball Dove trovo la slime ball Dalle common loot Dalle papere qua Ah mi servirebbe anche Lo zucchero di canna Quindi nulla Ah ci pischia Ci pischia Vabbè fa niente Allora Abbiamo caricato il trapano Ok Ma quanta ce ne sta dentro Scusami eh Ah è vero che l'ho potenziato Ce ne sta dentro 420.000 RF E ora voglio farvi vedere Ragazzi Guardate qua Guardate qua Ma io non so Se state guardando Quello che ho detto Poc'anzi Ma voi non state guardando Per niente Ragazzi Per niente Allora 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 Vediamo un po' Da qua Da qua Facciamo Cosà Cosà Magari non la facciamo Gigantestica Gigantestica La facciamo Sai che così mi piace Sai che così mi piace Oddio Non così così Magari un pochino Più lunga Magari un pochino Più larga Magari un pochino 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 E 5 Vorrei fare la 7 Anche qua Quindi diciamo 6 E 7 Non è male Non è per niente male Anche perché questa qua Va a finire di qua Che di qua poi sarà Cosà Ottimo Non è male Non è per niente male Non è per niente manuccia Ora però Cosa voglio fare Mettere una torcia Prima che qua nasce Qualcuno di indesiderizzato Mettiamo una bella torcia La sopra Voilà Ce l'abbiamo Usiamole Ora picchiamo Tutta quella gente lì La picchiamo subito Ma si la picchiamo subito Bam E con la spada C'è il colpo Potenziato Madonna mia Madonna mia Cosa ho rischiato ragazzi Cosa ho rischiato ragazzi Muori Facciamo fuori prima I creepers Dai muori Muori Bravissimo E poi tutto il resto Basta scheletri Dai l'ho fatta La questa degli scheletri Gli enderman Non stanno più nascendo Questo è poco Ma sicuro Io non ho visto Vai Bistecca marcia Vai Vai amico Moritici Dai Ti chiedi tra di voi Bravissimi Così ti fa Con grinta Vai Dai daccelo sto colpo Muori 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 pure tu Piccolino Questo mi spara Questo mi spara Questo mi spara Ok Sembrerebbe Dai apriamo la borsetta La borsetta Slime ball Slime ball Slime ball Slime Zan 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 Abbiamo ben dodici di carni Me ne servono sedici se non erro Oh ci siamo quasi Allora per il momento Facciamo transfer Facciamo transfer Togliamo questa qua Potevamo anche lasciargli La volendo E li mettiamo questa qua Che dovrebbe essere qualcosa di overpower Andiamo un po' Zacchete Eh beh Eh beh È un pochino più veloce Diciamo eh Ma giusto un pochino Ma giusto un pochino Bazzanchete 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 Logicamente Consumerà molto più carburante Velocemente Questo qua Io lo metterei qua Perché no Comunque È sempre utile Boom Fa sempre corrente Ottimo Per il momento Per il momento Tutto per il momento Qui abbiamo creato la nostra stanzetta Con questo Zacchete È un qualcosa di wow ragazzi Qualcosa di wow Io l'alzerei ancora Perché no L'alzerei ancora Ho sbagliato qua Forse era meglio fare così L'alzerei ancora In questo modico Con questo modico prezzo di Allora V Chi è la V? No la C La V Oh singolo blocco Boom 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 Anche abbastanza velocetto Eh vi piace ragazzi Sentitevi nei commenti Se vi piace questa cosa Che ho fatto poc'anzi Allora Qua Gli Enderman potrebbero nascere Ma sapete che c'è? Io lo faccio ancora più alto Io lo faccio ancora più alto Voglio gli Enderman No Ho fatto sbagliato V Ho sbagliato Lo voglio ancora più alto Però io Lo voglio ancora più alto Andiamo un po' Se ci riusciamo Eeeh V E V Com'è? Ma com'è? A modo suo? Ho detto uno per due Io scusa Ma vabbè Fa modo suo Ottimo Ora ne farei un'altra qua Un'altra qua ragazzi Bambete Ora mettiamo la torcia Che va qua sopra Forse alziamo il soffitto Ehm Allora ne farei un'altra qua Qua la farei 9x9 Come le solite Perché voglio fare Ehm Ci mancano Mmm Giardinetto Dobbiamo fare il giardinetto Quindi da qua Ehm 1 2 3 4 5 6 7 8 E 9 Dovebbe essere Poi dovrebbe essere 3 Quindi 4 5 6 7 8 8 E 9 Almeno così dovrebbe essere Non voglio dire Castronaterie Finish the currents Finish the currents Ok però ci siamo dai Almeno ci siamo Abbiamo creato Almeno un supporto Arriva qui Poi magari lo faremo Un pochino più lì Più lì Va bene Ho detto qualcosa Di sbagliato Fatto Stavo inclinendo Ok Carichiamo L'ambaradamma Servirebbe un po' di terra A questo punto Allora Iniziamo a fare la terra Bambete Bambete Zacchete Io ne farei un altro stack Perché no Perché no Zacchete Zacchete Ottimo Questi qua Li andrei a Mi hanno detto che si possono Ricomprimere Non so se è vero Wow Ma me lo spacca Dite Non può spaccarmelo Dai Ci vorrà qualcosa Di ancora più potente Credo Me lo rompe Oddio Double Compressor di gravel Si me lo rompe Ma me lo da Me lo ridà indietro Non mi da la Non me lo cambia Scusami Boom No me lo ridà Cagata No me lo ridà Niente raga Non va Non va Però ho perso tutto Scusatemi Oh no Oh si Oh Ho perso tutto Ma non era molto di più la roba No Vabbè mi sto confondendo Perché mi stanno chiamando Scusate Allora Allora Abbiamo questa qua Io farei che Abbiamo Caricato un po' Ottimo Bello Bello 81000 L'ha caricato molto velocemente questa volta Ottimo Ragazzi Vi allargo la stanza Ci vediamo tra poco Et voilà Allora Vediamo un po' Se riusciamo a Vediamo un po' Lì ci metterei L'acqua Secondo me E' ottimo Qua ci metterei la sabbia Però ragazzi Voglio fare le candela a zucchero Visto che ci serve Un ingrediente Giallo a zucchero Possiamo iniziare a far A farlo il cavolo Scusatemi Sugar Sugar cane Eccole qua E come si fa E come si fa E come si fa Almeno che non ci vuole il seme Dalla terra Dalla stringa Dalla flin Abbiamo un 8% Da qua Abbiamo un 4% Ottimo Ottimo Quindi dalla flint Noi di flint Ne abbiamo ben 3 Non è male Non è male No Che fai Non è male però Aspetta 1 Via E 2 Ok Via e via un attimo Ne abbiamo 3 Dalla flint 1 2 E 3 E qua posso gravellare In poche parole La terra Giusto Voilà Dai dai con le sugar cane Dai con le sugar cane Con le sugar sugar Voglio le sugar sugar Voglio le sugar sugar Ma mi serve Mi serve un recipiento Mi serve un recipiento Mi serve un recipiento Ecco qua ce n'erano altri Ecco perché Non mi trovo con i calcoli Facciamo una cestica Un attimo Adesso torno ragazzi La mettiamo qua un attimo Voilà Et voilà Et voilà Et voilà Et voilà Ok Qualcosina mi ha trovato Ora mi sistemo un attimo L'inventario Che C'ho più Ma perché c'ho tutta Sta cobblestone io Oh Butti dentro la cobblestone Forzi Eh beh se non erro Andesite Granite Fantastico Fantastico Allora adesso Possiamo tranquillamente mettere questo Io ce l'ho un secchio C'ho il secchio Si dell'acqua Quindi metterei l'acqua Al centro Non so se farei acqua continua O acqua stagna Questo non lo so Per esempio Intanto farei Si metto acqua fissa Perché mi fa casino Se no arrivo subito No non riesco più a correre Porca paletta Mi manca il cibo Mi manca il cibo Mi sa che devo fare una piantagione Per forza Porca miseria Che devo fare Ah si acqua Acqua Grazie Ultima secchiata Dovremmo esserci Ecco qua Ok fantastico Qui ci mettiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ne vengono Fantastica 1 2 E 3 Vai Aspettiamo che creschino Che creschino Io alzerei ancora il soffitto di 1 A questo punto V e V Ma si alziamo il soffitto di 1 Si sa mai Crescono le cani da zucchero Quelli giganti Che figata però ragazzi Che poi 3 per 3 La stanza era 9 Quindi è perfetto Vedete un attimo Ottimo Ottimino Ottimino Ma sapete che io qua ci farei anche una piccola piantagione Voi dite brutta così Voi dite così è brutta Magari qua Magari qua Magari qua Ci mettiamo una terra Perché appena entri C'è lì Appena entri Non lo so Una cosa del genere Tipo Tipo una cosa del genere Può essere brutta Forse sì Forse sì Però perlomeno è Salutare Come si dice Ciao ciao No non salutare così Salutare nel senso che ci serve No Comunque è importante Dalla facciamo un po' Magari la cambiamo esteticamente Giusto per il momento Che possiamo piantarci qua dentro Abbiamo carote Patate Qualcosa da mangiare Adesso andiamo a guardare Eh che palle Non ho chiuso telegram Scusatemi ragazzi Ora andiamo a guardare Allora abbiamo la zappa Abbiamo un secchio dell'acqua La zappa Vediamo se posso usare questa Questa non è una zappa Oh sì Boh Non lo so Allora facciamo così Intanto al centro Acqua Ottimo E ora possiamo zappare Et voilà Eh sì che si può Fatto Anche lui Oh Non so chi possiamo piantare Forse questi tre Possiamo anche toglierli Ma io Con Non mi ricordo ragazzi Non mi ricordo Col bombil Con il bombil Potevo Potevo Far alzare le cannele Non mi ricordo Sì che si può Così le togliamo Le facciamo altre tre Due bombili le crescono Altre tre Sono sei giuste giuste Uno due tre Quattro cinque sei Voilà Oh Figo Molto carino Olè 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 Cosa possiamo piantare Che abbiamo qua da mangiare Da mangiare credo nulla Semi di lino Semi di anguria Abbiamo Poteto Vabbè Pomodoro Poteto No patate Che pomodoro Patate Ci vuole crescere un attimo Vediamo un po' che abbiamo Patate signori Patate Verdure Zucchine Forza Cinguere la cascia La cascia bang La cascia bang La Ho visto che è successo Ragazzi ma Ragazzi ma C'è qualcosa che non va Ragazzi mi sto arricchendo Ragazzi mi sto arricchendo C'è qualche bug C'è qualche bug Oddio ho trovato un bug Raga Raga Ho trovato No sono Che figura di merda Sono sempre 20 Sono sempre quelle È che non posso metterle vicine Non so che cacchio di cosa sia strana Ecco Ecco Vedete Metto quelle e salta tutto Vabbè Comunque Che figura di merda Allora Qua non posso metterlo Sì Ok Abbiamo delle patate Mi saltano Ma forse non c'è luce Cosa c'è Boh vabbè Comunque raga Abbiamo delle patate Le cuoco Le cuoco Le possiamo mangiare Ora un casino Sono le slime ball Porca paletta Com'è che si chiamavano Non mi ricordo più Si chiamavano Non mi ricordo più Vector 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 Allora Vediamo un po' Come si può craftare ragazzi Dai per favore Allora Con questa qua No Questa qua rossa Che cos'è sta rossa La congiale Dead Non si può fare Poi E niente Unico la slime ball Questa qua blu Questa qua blu Dall'albero blu Ma io ce l'ho Quest'albero Ma Io quest'albero Mi ricordo di averlo Mi ricordo di avere Quella Ah no Mi sono confusciato Ma Ce l'ho Ma raga ce l'ho Eh ma dove cacchio ha piantato Sto coso Sulle slime ball Dai Sulle slime ball L'ho affiantato Porca Dirt grass Only grows On slime Dirt grass Non ho capito Poi mi saltano le patate Oh finalmente abbiamo del cibo Dirt grass Con la Ah forse con la Devo consumare uno di questi Devo consumarlo Lo faccio qui Eh Lo faccio Eh ma qui Per forza qui devo farlo Guardate Boom Diventa terra Dimmi che si pianta Non si pianta Non si pianto Perché va sull'slime Sto coso No Uh Eh serve a craftare Anche Ragazzi ho trovato qualcosa Farina di riso Farina di riso Riso Il riso si fa con 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 che stessa roba Come si fa il riso Vabbè il riso Messo nell'insolatore Fai noto ai geneni Genenico Assieme Che stessa roba Riso Solo così si può fare Stessa roba Ma sei serio Questa sembra una cosa semplice Raga forse Possiamo farci Delle slime Noi Forse si A posto Ma lo vedremo Nel prossimo episodio Un bacione Un abbraccio Anche se in questo Ho fatto poco Vabbè comunque abbiamo chiacchierato Qualcosina abbiamo fatto Però dai Ora voglio poi abbellire Tutte le stanze Unificarle Fare delle porte Vorrei fare anche Un ponte sopra Di legno Cose fighe Cose fighe Ho in mente Tante cosette Fu così Che Luke Ammazzò Questi Ambaradam Questa è una spasa Di livello Mi droppò Una valigia Una borsetta E Luke trovò Delle slime ball E questo Ma ho chiesto L'ho finito Dai muori 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 Non mi ha droppato niente Non mi ha droppato niente A parte un botto di esperienza A parte mi sta droppando Un botto di esperienza Abbiamo già nove Ossa Via Due mistecche Siamo a 14 Se non erro sbaglio Dobbiamo arrivare a 16 Se non erro sbaglio Vediamo un po' Quest Mi arriverà a 16 O sbaglio A 12 A 12 E bauscia Ma ce l'ho Ma ce l'ho Detected Detected Carne marcia Dai non mi dire Completa Uh Due enderpearl Abbiamo fatto anche quella quest Due enderpearl Dai un enderpearl Mi serve Ciao a tutti 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 Ciao a tutti